Presidente, un'inaugurazione è quella di oggi nel segno della continuità? Sì, diciamo che è una iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio che è stata intrapresa proprio perché ci siamo resi conto nel momento in cui abbiamo acquistato questo immobile per deputarlo in parte a sede universitaria che avremmo creato dei disagi di cui peraltro nessuno ci aveva messo a corrente per le famiglie e per gli insegnanti che già c'erano. Allora è stata presa questa decisione di gestire noi l'asilo questo verso marzo-aprile, quindi abbiamo dovuto anche correre parecchio abbiamo dovuto ristrutturare completamente la sede e questo si potrà vedere abbiamo cercato di renderla sicuramente in piena sicurezza e sicuramente adeguata alle esigenze dei ragazzi di oggi ci auguriamo che la cosa vada bene per ora abbiamo avuto in pochissimo tempo 50 iscrizioni quindi questo lascia sicuramente ben sperare ma noi quello che vogliamo non è tanto il guadagno che in ogni caso sarebbe riversato per la città ma che interessa che i bambini crescano in maniera sana in maniera effettivamente valida e poi ci auguriamo che un domani questi bambini possano andare all'università che sarà il loro dilimpettaio importante per le idee, i progetti e i sogni del futuro.